Musica Non sa neanche come ha fatto ad arrivare in Champions Non ho idea di come ho fatto a passare il turno De Jong ragazzi Non vedo un cazzo ragazzi De Jong che non gioca non si sa da quanto tempo Naturalmente avete capito che Xenic all'Inter Se seguite la serie insomma Sapete che Xenic è dell'Inter Quindi ce l'ha lui Ma il Milan oggi vincerà Musento Oh Baudelli Grande ex della partita Oh cazzo Guarin Guarin L'apertura ma che cosa fai? Che cosa fai? Mamma mia Come tiene il palazzo Mamma mia Ma chi è quello? Chi è quel patto? Zapata penso sia Zapata Ma ragazzi Zapata che giocatore Eh beh Infatti Subito l'apertura per Kovacic Kovacic non va Gattaci Kovacic Mamma mia quant'è simpatico Troppo lunga Ma come fai a metter Nian in campo? Ma perché sta in campo Nian Come fai a metter Nian in campo? Io ho pressato start Uh 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 La palla lunga per Palazzo non va Palazzo Pressione psicologica da parte dell'Inter Pensione e domanda a Montolivo? Cioè scomita in campo? Eccolo Nagatomo segue a Montolivo Montolivo Segue a Montolivo Segue a Montolivo Oh subito Io non vedo un cazzo Campagnaro neanche io Perché l'ombra con veramente C'è l'ombra di merda di questo stato di merda Mortacci Tu Oh e dai che culo Eh mamma mia Guarda lo monto Il monto Il monto Monte your friends Oh 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 Ancora Che cazzo fai Mortacci Citum Stamartina se non definisce Vix Lo sai No Non devi finire Vix Devi vincere l'Inter Punto e basta L'Inter è forte e perderà No perché Barodelli Parigi Cristo oddio Attenzione Lo vada lo vede lo vede Niang Può fare il primo gol Il primo gol No che cazzo fai Sei proprio una Una birpa Una birpa proprio Fai proprio schifo Niang Mannaggia a te Vai 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 Non segna manca a calci questo Oh Soprattutto a calci Lo girino Lo girino Lo girino Non va Ancora Arretra Al Nocerino No Non è vero Non vedo niente Apri per Montolivo Di nuovo palla Al Nocerino Al Nocerino Ma Al Nocerino Gioca ancora Gioca 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 Nella Nocerina Magari è pure il capitano Guarda Guarda dove siamo arrivati Grande Milan Gioca in difesa Ragazzi Niang Ancora lui Che cazzo fai fermo Ragazzi Allora voi Sei rotto già Oh 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 La L'apertura per Palacio Ma guarda Abate quanto corre L'apertura per Palacio Abate corre Ma no Abate Ha sbagliato proprio Abate ragazzi Ma è ancora per Palacio Lo vede Subito Il cross In mezzo L'Alvarez Oddio Oddio L'Alvarez Il gol L'Alvarez Mamma mia Ma che vuoi Ma non si sa Che gol ha fatto Mamma mia Grande L'Alvarez Grande L'Alvarez Vai così Vai così Lo stop di Palacio Il cross al vuro Alvarez in corna Ma lui si guarda E il Daryl Rosica Perché vuole Non vuole Che io ripeta Guarda sempre di play Io non mi guardo mai Lui si guarda sempre Vabbè ma Questo è il debito Mi devo guardare ancora Alvarez Impressionante In questa fase di gioco Alvarez Io capisco perché Capita sempre Dopo che una squadra Fai il gol Dopo che sei cazzo Hai visto Ancora il Milan Sempre così Ancora l'Inter In questo caso Perché l'ha data a lui Perché io lo parlo La fanta sopra Sant'Andano Mi diventa pure Burino La fanta sopra Ancora l'apertura Di Alvarez Per Palacio Che non va Era un tocco di tacco Il tuo Eee Neanche Se non si evita a mazzo No Neanche Se mi ha Il suo primo gol In Serie A In carriera Solo sulla play Tra parentesi Questo è il primo gol In carriera Di Miang Un baglie di Ang Mamma mia Perché un baglie Ma no Ma lui è tra ore Ma vabbè Stavola Non la sa nessuno Sì Sì Un baglie di Ang Ragazzi Che gol Che cosa fa Guarda Ma adesso Vedi È successa la stessa cosa Al contrario Che sei casa Il Milan Oh Ancora l'apertura Per Palacio 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 Lo stop Palacio Il tiro Che cazzo Fatto Che fatto Dove Oh Scolato Sì Sì Mamma mia che palla Sti ombri Andiamo a giocare La di notte Cazzo Eccolo ancora Alvarez Alvarez Lo vede A Palacio Mamma mia La palla è in mezzo Palacio Lo stop Il tiro Palacio Palacio Rodrigo Palacio È il gol numero Certo È il gol numero 13 In campionato Di Rodrigo Palacio Che trascina Quest'Inter Grandissimo L'assist di Alvarez Uomo partita Fino a questo momento Mamma mia Che gol Ragazzi Che partita Piena di emozioni Già 32esimo minuto Tre gol La media di un gol Ogni dieci minuti Darryl Alvarez Vabbè basta Alvarez La palla per Palacio Stai zitto Kovacic Kovacic L'apertura per Nessuno Ah Si è zittato Raga Vai vai Dai Si è zittato Vangesus No Che cazzo fai Che ti fai per accettare Basta però Questa palla per Mutolino Comunque ragazzi Per Darryl La partita della vita Sarà la prossima settimana Come sapete bene Ah giusto Sì è vero Perché ci sta Roma Juve Oh Juve Roma Juve Roma Juve Roma Juve Roma Torino Juve Roma Vabbè dai Penso che esca un X Cioè spero che voi Ma pure qua Tranquillo Oh 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 No Zapata E fatte i cazzi tua Mamma mia Ancora di nuovo El Charawi È già rotto El Charawi Tornato dall'infortunio El Char No Sai che si è ritrotto Un'altra volta davvero? si oh 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 certo va bene e questo stanno a fare lo stesso errore di Pato Pato si rompeva ogni 2 secondi e c'era il mio stanno a rovinare un'altra volta ancora l'interpressa il Milan non trova spazi e Palazzo ora Palazzo che vede scattare cambiasso cambiasso che scatta è fantascienza buona è il fuori gioco di rientro di ballo ma lo dai incazzati fai come fai di soldi lo dai spacca tutto si pia rosso va eccolo ranocchia il lancio lungo per nessuno niciuno niciuno cambiasso cambiasso lo vede scattare a guarina che passa no non prendo la palla uuuu 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 quando tu stai sull'ombra io non ti vedo proprio ma anche io a te non so se sei un minuto e allora abate vada per abate si sta oh oh non va oddio che stai a fa' ancora l'apertura subito nooo che intercetto da parte di Montolivo capitano del Milan ancora Balotelli Balotelli si smarca con classe Balotelli ma vaffanculo a Balotelli fai poporite Alvarez la palla per Kovacic Matteo Kovacic Matteo Kovacic prende le ritini di questa squadra ma zappata ragazzi uuuu hai sbattuto la palla addosso palla per Gnocerino manco lui lo sa come ha presa Niang mamma mia finito il primo tempo sempre andassene a mano l'arbitro eh ma sto te dai su Rodrigo Palazzo e Enrici Alvarez RR ragazzi RR ye 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 hai fatto due tiri in porta partita equilibrata dai si no vabbè abbastanza equilibrata diciamo che il tuo tiro quello di Niang il primo Diego non il gol era abbastanza scandaloso e ancora il Niang riparte qui con questa partita veramente focosa qui a San Siro lo stadio Giuseppe ne alza la metti in mezzo per nessuno oh Jonathan copertura di testa ancora lo sbaglio della difesa dell'Inter si impappina non sa più cosa sta facendo De Sciglio prova il tiro stai facendo giocare De Sciglio cioè renditi conto non va De Jong non va De Jong perché Andanovic salva la porta dell'Inter che è come stregata per il Milan e ora la palla per Guarin ma abbat è troppo veloce ragazzi mamma mia ragazzi abbat è veramente forte eh Guarin no eh Guarin pensavo la prendesse ancora Balotelli 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 il tiro non va pensavo che era entrata già era pronto bra rete rete si sblocca il risultato assensivo si gonfia la rete Covacic Covacic si ha fatto in 30 squadra Covacic grandissimo la palla Nagatomo la trascina fuori ragazzi Zapata man of the match ancora l'apertura subito al volo per Guarin Abate 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 un limone e mezzo limone cazzo c'entra Balotelli ma che è tuo questo Montolivo mamma mia ancora Montolivo c'entra c'è la difesa dell'Inter veramente ferrea in questo momento della partita e allora questo è fallo però ma dove arbitro portacci tua vabbè che il Milan è del Berlusconi però secondo te Berlusconi venderà il Milan mamma mia la palla per Guarin 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 che cosa fai che cosa fai che cosa fai un Jesus del merda portacci tua se mi fai via il gol tamman partita che si gioca a centrocampo in questa fase fase concitata della partita oh la palla più intanto per l'Alvarez eh però c'è l'intercetto di De Sciglio Abbiati sbaglia tutto Abbiati Abbiati ah che palle che sculata che c'ha avuto e ora ancora la palla per Balotelli e lui il perno del Milan oh no dai ma guarda che culo De Jong cagnaccio De Jong che schifo De Jong è proprio un cane di merda ah mamma mia che brutta apertura e dai oh 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 Jonathan intercetta e lancia subito Alvarez sulla corsa Alvarez Alvarez Nexess ma è arrivato il momento del cambio ah si? si ne abbiamo mai cambiato penso in tutti in tutti allora in questo momento abbiamo bisogno di qualcosa di più quindi entrerà Robinho ed escerà ed escerà Neang ok ok per me siamo a posto è il momento di è il momento di Robinho Tiger è il momento di Tiger è il momento di Tiger beh perché non fa il cambio perché se viene ancora preparato la palla per Campagnaro Campagnaro lo vedi a Palazzo troppo luna ma ancora ti dice a Palazzo a Palazzo lo vedi a Palazzo lo vedi a Palazzo a Palazzo Lucerino 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 che hai tolto che cosa hai tolto è riprevedibile oddio oddio lo vede scattare Alvarez prende palla di fisico Alvarez Alvarez non va Montolivo la palla non va fuori veniremo così senza fare i cambi sicuro butta la sua cosa in mano butta la sua oh oh ancora la ripassa a Neang che si era centrato ritardano troppo il passaggio e ora la palla per Alvarez 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 ancora se ne va con maestria l'apertura subito lunga per Guarini per Guarini cambi si mannaggia mannaggia ah 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 ma si si vai vai che derby ragazzi mamma mia no no eh si porcaz oddio 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 vai segnato vai segnato oddio no ah 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 mamma mia che dolori mamma mia che derby ragazzi che derby e ancora intercetta la palla l'interman manna il charaqui la riprende e ora spazza mamma mia materazzi 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 uguale ranocchia il rinvio lungo sbaglia nagatomo di testa si non va e ancora cambiasso cambiasso lo vede pjanic vada per pjanic eh il cross in mezzo per guarin sapate ragazzi ma sapate è qualcosa di assurdo ragazzi è massa è proprio una bestia rara eh oh 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 non c'è mamma che di Jong è incredibile dai è scandaloso non va mamma mia campagnaro e ancora la pala dove vai palacio che scappia la pala De Jong ragazzi che partita basta eh basta eh dobbiamo segnare il gol della vittoria ragazzi il gol della vittoria amministra bene il pallone il Milan con questo errore però e ora subito l'Inter fuori ma mamma mia che fallaggio questo è da rosso eh che fa ma che fa ma che d'argelino così giusto dei digel questo per Nigel non è un fallo no no questa è una carezza infatti è proprio mamma mia quanto è stronzo con l'uomo e ancora il pallone subito l'apertura palacio che cazzo fai palacio la partita è quasi finita siamo quasi scoccioli ah 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 mannaggia 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 vai abate corri vendolino uuuuuh eh grazie no grazie al cazzo grazie graziella warin palacio 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 perché la dai così lunga palacio e alvarez non è messi un poco di così tanto dai su due minuti di recupero ragazzi il Milan non può pareggiare non deve pareggiare il Milan e subito l'Inter che riprende il pallone lo riconquista la palla per alvarez alvarez appoggia di testa perché andiamoci andiamoci ce la facciamo palacio è ancora l'inter recupero a centrocampo è sbagliato ma l'inter vince è qui si aggiudica il derby Xenic baffanculo forza Inter bella questa è la classifica mamma mia che bella partita noi vi salutiamo Yoyo Montolivo guarda il cielo guarda il cielo è tutto giallo rosso e te ne devi andare vabbè dopo questa vi salutiamo bella bella grazie a tutti